C'è un solo modo per rilanciare la sfida alle destre e provare a vincere. Confrontarsi con le sinistre è il mondo del civismo che si è costituito in coalizione a sostegno di De Magistris e dare vita a una proposta comune di governo per la regione assolutamente alternativa al passato recente ed inaugurare la stagione della legalità, della lotta contro le organizzazioni criminali e affaristiche, della questione morale. Questo è l'unico viatico possibile per ripristinare la democrazia in Calabria. È il senso di un documento di Sinistra Italiana, il partito di Nicola Fratoianni, unico pezzo di sinistra parlamentare all'opposizione del governo Draghi. Mentre il PD continua indisturbato a fare danni, a perseverare con i suoi errori storici inseguendo le sirene del liberismo, la coalizione delle sinistre e del civismo attorno a De Magistris dovrebbe smantellare tutto, invitare il centrosinistra a mettersi da parte. Sinistra Italiana è contraria anche al metodo delle primarie, strumento che nel mezzogiorno rappresenta la sfida tra notabili e capi corrente, dove le forze politiche partecipanti esterne al PD servono soltanto a legittimare una farsa. Per il partito di Fratoianni il PD ha bruciato tutte le candidature indicate nel tavolo del centrosinistra. Il tempo dei giochi è finito, i calcoli di potere, le faide correntizie del PD non possono continuare a fare danni. Auguriamo al PD calabrese di intraprendere un nuovo corso alternativo rispetto al passato. Sinistra Italiana si rivolge al PD, all'EU, al Movimento 5 Stelle, invitandoli ad unirsi a De Magistris.